Ecco, questa è la solita storia, una ragazza viene mollata e cosa fa subito? Chiama il suo migliore amico, che è come un cagnolino, a corre subito da lei ad ascoltare le sue lamentere. Sapete, io li ho sempre ritenuti degli eroi, questi uomini che fanno di tutto, si fingono interessati solo per poi cosa? Lo sappiamo chiaramente cosa punta un uomo. Un uomo? Punta solo a... Ma la vuoi smettere, brutto barbone? Vi lascio in faccia, me la smetti di leggere i miei messaggi. Ehi! Oh, Alfio, Alficcio mio! Maurizio mi ha lasciato! Mi dispiace, Marisa. Bastardo, mi ha usato solo per una scopata! Dove hai capirlo, quando ti ho scritto quel messaggio? Ma quale? Quello in cui diceva, sappi che io ti voglio solo scopare! È stato così criptico! Oh, ma come ti ha silurato? Beh, allora, eravamo così, a casa e io ero così, a pecorella e lui da dietro che intanto spingeva e... Ma cosa hai capito? Siediti, intendevo come ti ha mollato! Ah, scusami, la parola siluro mi ha mandato un attimo in confusione. Comunque io ho beccato sul cellulare che si sentiva con una certa nazzo. Deve essere... Claressa nazzo! È impossibile! So da fonti certe che a lei piacciono le donne! Ah, ho capito chi è questa nazzo! E chi è? Una zoccola! Oh, Alfio, sei così carino, sei così gentile! Sei veramente l'uomo perfetto! Magari tutti gli uomini fossero come te! Non me la daresti comunque! Che cosa? No, intendevo dire... sarebbe un mondo diverso! No, non hai detto così! Ascoltassi, Marisa! A me mi piaci! Un casino! Cosa? Non dirmi che non l'hai mai capito! E come avrei potuto? Ma dai, sono sempre lì su Facebook a mettere mi piace, sulle tue foto, anche i gattini sbirulini! Non capisco! Ma cosa no? E su Instagram? E sta fotuzza? E sto gelato? E in sto cazzo! Ma... Ma... Ma Alfio? Ho visto pure tutti i tuoi video su Dustmash! Sei fuori tempo come un intervento di Ranocchia, cazzo! E così tu saresti un ragazzo che ci prova con le tipe su Facebook mettendo mi piace a tutte le loro foto? A volte condivido anche! Comunque io sono una ragazza per bene! Ma dai, che quando t'ho conosciuta mostravi le pere su chat roulette! È passato tanto tempo ormai da quel periodo! Due mesi! Oh, come vola il tempo! Comunque, Alfio, io non potrei mai amarti, io ti vedo come un amico! Beh, non è che devi per forza amarmi, eh! E allora che cosa vorresti da me? Beh, se non puoi amarmi... Fammi almeno una sega! Alpio, sei un parco! Ecco, la sua ultima frase, se non puoi amarmi, fammi almeno una sega, racchiude tutta la nostra generazione. Perché noi non crediamo più nel vero amore, nel grande amore. Noi ci accontentiamo delle briciole, un po' come avrebbe fatto lui. Ma te chi cazzo sei? Io sono un barbone, dormo sempre lì, guarda, su quella panchina. A proposito, hai due euro che voglio una birra?